Stiamo cercando di capire nel dettaglio alcuni passaggi che cercheremo nel possibile ovviamente di sanare. Sono le parole dell'amministratore delegato di Anas SPA Massimo Simonini, arrivato ieri in Abruzzo per prendere visione della viabilità Scafamanopello Passo Lanciano a Pescara per l'eventuale realizzazione di uno svingolo chiamato Colle Caprino all'attezza dello stesso che permetterebbe di utilizzare la circonvallazione Montesilvano-Pescara come un semiraccordo anulare. Nel pomeriggio poi a Loreto a Prutino per l'elaborazione progettuale della viabilità Loreto Penne anche con destinazione verso Farindola. È una strada complicata, ha avuto tante vicissitudini, stiamo cercando di rivedere e rivalutare la possibilità di realizzare quest'opera. Ha delle criticità indubbie ma ci stiamo lavorando su. Per quanto riguarda la Maremonti, due terzi delle risorse sono presenti anche nelle economie provenienti dal passato. La parte restante, come precisato anche dall'ingegner Simonini, non è difficile da recuperare all'interno di una rigorosa progettazione di qualità. Quello che è certo è che gli enti locali devono individuare il tracciamento migliore e non metterlo in discussione. Ci aspettiamo che questa progettualità volga a brevissimo tempo in opera e quindi possa dare delle risposte concrete all'area vestina e con essa anche all'area industriale che sarà necessaria per ridare vitalità alla nostra area, oltre che chiaramente tutta la parte turistica. Quindi ringraziamo il senatore D'Alfonso per il suo continuo impegno e l'amministratore delegato dell'ANAS che sta mostrando un interesse particolare. Speriamo che un sogno prima o poi diventa realtà. Con l'ANAS abbiamo posto in essere alcuni principi in base ai quali poter finalmente sbloccare un'opera pubblica importante, cioè un collegamento veloce tra Penne e la Costa. Penne e il baricentro e tutta l'area vestina, quindi dei centri limitrofi e dobbiamo far sì che grazie anche ai fondi del PNRR individuare risorse aggiuntive per realizzare l'infrastruttura che attendiamo da circa 40 anni.